Sottotitoli e ragazzi e ragazzi, benvenuti al Palazzo Sant'Ambrogio in Milano in questo match tra Gemini Solution vs Ops Service Prossession ball per Ops Service, il giocatore Denis Romanov Romanov, passata in avanti, ora prende la balle, Gemini Solution prende la balle, è una piccola combina e ora prende la balle, Ops Service ora Florentino, il giocatore Radzvan e ora prende la balle, Ops Service un grande save per Radzvan E' una piccola insolata Tra delle tue, una piccola ormai un punto di terza una piccola, una piccola, un punto di terza un punto di terza si va, si va, si va, si va e ora Florentino passata e un punto di terza 3-0 3-0 3-0 Gio 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 Romano Gio Romano Gio 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 Após Gio Bacdan Gio Imi ð It is Suo Goal eres Tick And Grupo Gio suitable W W La scuola, la conclusione. Il giro al numero 10 Ametov. La scuola, la divisione e la corna. In favori di Observis. Adams, ha perduto il giro. Bogdan, la scuola, la scuola. Dribble 1, Bogdan, la scuola. La scuola, la scuola. La scuola, la scuola. La scuola, la scuola. 2-0. Romanov. Nowa Scunatovic. Adams. La scuola, la scuola. La scuola, la scuola. Nowa Scunatovic. Romanov. Scunatovic. La scuola. Buon save. Ratswan, grande scuola. Goalkeeper Romanov. Passa la scuola. Skorapski. Nowa contraattaca. Romanov. Romanov. Lost the ball. But there's fall. There's fall. And now. Free kick. For Observis. Romanov. Ametov. 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 On the free kick points. Ametov. Pass. Pass to Romanov. And finish the match. Gemini Solution win the match. Versus Observis. 2-0. Goals from Bogdan and number 9 Christian Popescu.